ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale oggi apriamo il magazine 28 delle winx e questo è il magazine di luglio allora dove esce bloom con i servizi date e twinkly allora questa è il set e questo è il giornale qua bloom l'amica stellina che sarebbe twinkly e tanti accessori apriamo come sempre prima prima quello che esce insieme al giornale e abbiamo il tavolo con la stella le tassine una viola e l'altra verde la tegliera che si apre pure bloom che me l'aspettavo più piccola e twinkly carini mi aspettavo molto più piccole infatti sono più felice che sono così grandi allora ne metto qui e vediamo un po il magazine una tavola per notare che io questa l'ho comprata l'anno scorso e ce la vediamo cosa viene questo un gioco tipo fumetto credo quale animale ma animale marino 6 poi qua ci stanno vestiti come sempre e quel fumetto dove qui poi ritorni alla pagina dopo aver letto il fumetto rispondi a poi qui c'è il poster perché inizialmente non li mettevano i poster ora li mettono che c'è da lato quello da colorare dall'altro no poi quel concorso altri giochi questo tipo le differenze altri giochi ancora bloom da colorare altri giochi ancora poi quando fanno vedere le letterine disegni delle altre bambine e cosa esce le treccine colorate che a me non sembrano treccine sono vabbè che io le ho simi infatti l'anno scorso ho fatto il video però però ero quelle erano proprio treccine non erano tre erano tutte delle wings poi qua la summer bag delle wings tra i sempre due riviste tante sorprese cercano in edicola ok poi qua parla di questo divanetto che già ne parlava altre volte e basta allora ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto mettete un bellissimo mi piace ci vediamo al prossimo video ciao ciao